Gustava Inna è stata fatta con il saggio di San Regioni Sarda, in Prentas 2023-2024, Lei regionale 22-2018, articolo 22. Amico Scaros, un altro ottobio, un ottobio bello, con Bojis de Veminas. E questa puntata di oggi è dedicata a una Boji grara, questa Boji è una tattaria, e questa Boji è tutto, grara, farina, è una cosa bella, è una domodù. Salute a Boji, a te, in particolare, che ti è un bel tempo che lo chiedi a questa domodù. Di Aderos, uno bel tempo, non so se ho 30 anni, ho preso, ma di Aderos de Meda. Ma noi siamo stati un pari di Pago, sempre in questa televisione Sarda, proprio con questa puntata dedicata al mondo di questa poesia. Questo mondo che tu conosci bene, tu sei attore, recitatore, professore, professore non ho preso, no. Professore non ho preso, manco male. Non ho preso, manco male. Però continuano sempre con questo impegno umano, a pizze di Salimba Sarda, questa poesia, tutto il canto. Dunque, a te, a te sempre, questa gente, può contare, e ti ha adottato, che è un punto di cosa bella, del mondo della poesia, in questo concorso, poi Salimba Sarda. Tu sei sempre stato attivista, già di Mera? da, da, sono 70, dai, quando, dai, quando, a Mosu Gicadu, sai, prima hai frimmasa, tre, chi mi sa frimmasa, che hai amosagattato, però sa proposta di legge popolare, di iniziativa popolare, proprio, però fa che sa, legge di Salimba Sarda. Quando ancora, quando ancora, niente, pago i fini, non c'è che creano i saldi, perché non c'è tutto, che vedono il dialetto, che non parla la nuova, deviamo immodernizzare, non so, finché sanno la disindustrializzazione, di questa petrolchimica, e tutto, pensa, io, che c'è tutto, che c'è il destino, questa saldina, e fai dare dei saldi, e delle Salimba Sarda, che non c'è tutto, rinsecuto. Però, in questo, sono 40, 50 anni, del traballo, dell'impegno umano, di lui, dei sassosius, che ci vunti, proprio a pizze di Salimba Sarda, ma è da scoprire, sono cambiate, e poi, se la gente, ha piccato, pago pago coscienza, e si comprende, che la Salimba Sarda, in tanti, sono una limba normale, con questa stessa cosa, per esempio, ma questa gente, mi pare che non dite, non è da bregungio, come te prima, che sono in Saldo, o no? Ma, infatti, narrai bene, è cambiata a me, questa coscienza, questa gente, come, non si attrivi più, a meno, pressiare su Saldo, come te una osta, però, è ancora vago, per te, per te, hai nato una limba normale, ti ha detto essere una limba normale, la impreiamo come te limba normale, e invece, non l'impreiamo come te limba normale, e quando, andassi a banca, per un'arri, e fai due saldo, e, secondo il suo gatto, mi riponde, mi piace, da nessi, con ripeto, ma, secondo il suo gatto, mi chiede, da un altro luogo, a che giornale, ancora, e, su un'umera, se la gente, che, rifuta, da su Saldo, che, in un certo contesto, linguistico, su Saldo, non è ancora entrato, e, questo bruit, non è una limba normale, quindi, che non abitere, pronare, tutto, sulle televisioni, fai, che, che, amba limba, con normalità, come, ti ha, deve essere, in due nazione, che, da due, a limba, se, non lo potremmo, dimenticare, su Saldo, è una nazione, con due, a limba, a nessi, due, a nessi, e, dunque, Clara Farina, tu hai, traballato, in esi scuola, hai, imparato, hai, sceglie, stoso, istoria, italiano, e in esi scuola, superiori, sceglie, 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 però, ho, collaborato, o, collaborato ancora, con, su università, di, Sassari, no? Collaborato, io, quando, fibbi, Nicola Tanda, che, vedi, professore, di italiano, e, però, su, ultimo, anno, sono, ramoso, ai, sagatti, della, di, biologia, e, lingua, e, letteratura, salda, collaborato, con, issu, e, si, collaborato, pro, come te narre, fa che comprende, adesso, studente, esegui una poesia legge da Ene, ad un altro sapore, e, esa didattica, è un'altra cosa, tanto, faccio il corso proprio del seminario di lettura del testo poetico. Poeta, po', arrenesci a fai comprendi, s'animo profunguto del suo poeta e tutto che ha descritto questo verso, tocca, documenti nella storia, a ligi, a ciligi, ma ligi con sa gonca, con su coro, con sa sintragna, non è, a ligi scetti, un resto, no, una peraula, sa, io credo che la limba sia questa cosa che più, come te narre, è che, di sostanza di un uomo, è questa cosa più importante, di, di questa attività umana, che, la limba non differenzia dai suoi animali, se, i suoi animali, forse, se hanno la limba in solo, che però, non è la limba verbale, in realtà, come te sa nostra, e, 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 credo che, in un argomento, la limba sia capace, di avere, il mondo, il sentito, di entrare in profondità, dentro la gente, e, credo che, in più, la limba poetica, la limba poetica, in più, un altro sapore, di la limba, di ogni, di, 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 no, non bisogna, di, che le fornire, di fare aulas, di, per aulas, che, ne, come te ne, riusciano, a, e, riusciano, a, recitare, quando, si tratta, della poesia, ecco. In questa poesia, tu, da me, da tempo, tu tenisci questo, un peggio umano, in il concorso letterario, se sempre in giuria, da creare, pure, uno premio, e tutto, mi pare, tu e fra di due, hai fatto, nasci, uno premio, proprio in, 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 traballo, questa poesia, a capire la sua traballo, lo stesso è una cosa, ma, come te nasce, tu, questa, questa passione, di questa poesia, ma, tu, è poeta, no? Mamma, è poeta, mamma, come te, me dai femmini, in Saldinia, poeta, io, come te nare, in questa poesia, delle femmini, dei sonnini, do so, in, tutti, dove la pintesa, ti tende, a babbo, quando è molto babbo, me, e, faccia bene, si triore, proprio, faccia bene, ma, questo, vi, una cosa, tutto, sei femmini, a salda, o, quasi, tutto, però, mamma, i ad in più, su, se facciate, porudè, dire, poeta, i sapoi, tagliati, a final, di politica, pronarmi, se faccia, politica, la faccia, di inverso, se vuoi, si le, a, 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 chritto, contra, a, su, zindi, ue, su, no, pro, narrere, o, contra, sa, zente, o, magari, ca, ibritaro, che, non, hai, affatto, sa, cosa, come, te, devia, nese, fatta, e, si, di, so, gai, i, chri, and, poesia, sa, no, bayamamenti, sa, vita, de, sa, famiglia, che, che, no, cande, mo, sta, a, so, gentano, da, sanachina, la, povato, dottoro, libero, sed, attende, per, au, as, come, dunque, sa, e, totto, gustoso, impegno, apizza, sa, poesia, sa, limba, manifestazioni, de, portumanno, in, teatro, ma, puro, in, radio, in, televisione, totto, i, strumentos e mediasa lui usa sa poca contai sa poesia e sa limba nero a me e come te nero de mesi italiano non si viva che nutta a torasi in italiano che na canto di gerese e mezzo da me però in sardegna che la più pagata e tanto su un travaglio mio potesse vivere a sa limba salda e io mi fatto questo conto mi fatto questo cacolo quando si impegno mio è a favore di sa limba salda e te me l'imposta da mia di andare a recitare in italiano film come te narrero fa che re teatro in italiano non me l'imposta nuda con te grazie a deus italiano la da da de veminas e de de attores e de attores a mezzo da me e poi proprio un po traduzione se tu e devalu ha fatto un bello traballo a pizzo de is poesia da canto rituale de maria carta sesto maria carta estetia cantadora manna attora in cinema in teatro ha scritto poesia estetia una femmina impegnata in sa politica tutto canto ma scrive la poesia sen italiano e dunca sa tu hai fatto questo traballo bello ed importo manno gli sa dicretto con te poesiasi so sanno settanta canto sali in bb commenta viti che donare no e tanto se s'impegno sociale politico vittotto denunzetto denunzette iscera e su altidu comunista dando che fosse meta e c'è uno fi da favore del salimba salda cerchiamo nuda e isa vivi è stata elegita in suo comune di roma proprio questo partito comunista tanto e forse si sta pensare a chi con s'italiano poteva dare più boche ecco e narre su di vinnende e la poteva gustare di più su si liccheria dell'italiano ma sale poesia sua è pensata in saldo e pensata in saldo e per me alla pagheri in saldo abilato orrare in saldo per te e come in teccando mille un'arraia di se smattessi ecco della pagheri saldo per te davvero sui versi di maria sono piena di saldo questo traballo hai fatto con la nuova sardegna questo traballo l'ho fatto per conto della fondazione maria carta ed è bescito con la nuova sardegna in baratini e restate in edicola non essi due mesi e devono arrecchia da più di un successo meta per te però esser un libro di poesia non ha entri tu meta 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 di questo libro bene sono contenta meta già in su 99 invece scusa stuosa ha fatto con sardus pater un disco con il suo primo disco certo su primo dico l'ha provato 20 anno a homo con con dages ed è detto di fuori dico de poesia già di vestito dai dottos usate rosa di col de poesia da guidando fin cominciando a bescire però non finì meta eh puri te se poesia però me è storalità e io a mia magrada da bella torrare ha storalità e sta a narrere a su canto quando è possibile ma che sia canto saldo però no canto come te narrere chi non la pateniti non su canto pop ecco non mi interessa sa poesia e cantone sa poesia e cantone certamente in sardegna e gasi infatti e beh adesso su primo dico dei gusti dei gusti scera ecco de poesia poi da voi dei vinti anni si ha provato a bocchicrara e poi in questo caso ma è sempre con con dages però tu hai fatto collaborazioni si con emanuele garau in tracce di sacro questa bella cosa e poi in noi dopo tant'anno sul duemilaventitresi ha fatto a bocchicrara e noi è stato un traballo bello che tu hai posto una bocchia guappillo poesia sa ma che non fu di dei metodi contemporanei dei moi in mera variantesi linguistica sarda sanno ma sono essi in sa trese principale se naramo su intanto su che li narrano campitanese su che li narrano locutoresi non oresi e su che li narrano caduresi su caduresi ma su caduresi forse se stesso più su come tenere giusto narrare fai dare dei caduresi perché se cadura si fiume testa ma che non si tratta di saldo di distinguere fra campitanese e locutoresi è un'impresa ma è però naramo per non comprendere ecco campitanese e locutoresi o nuoresi e noi c'este uno disco su cd poi tu hai registrato in poesia sa ma in suo libro ci punti dottori poesia sa ma si come tu hai poesia sa e degusti con a che gasi dunque se è ordinari da io vago da io vago però propagare naramo sui musicista sattando a pochicato tutti musicisti è più importante che chiusura in una linea dimandendeli si del mi musicare una poesia e il solano ha fatto in debatas e questo dico lo devo a il sonnaro hanno accompagnato sei poesiasi no managhe il filo dinari poi torre liggio sma fatto così strina suddittore che mi ha fatto questa bella edizione ma il suo guru assi in dono assi in dono vendate il tre nato che in tu copiasi poi su resto si la chiesa me la compro è solo che sicuramente costa a me da poter essere un'edizione volute lusso uno vago è bello è troppo bello ecco è bella la grafica è bello il suo appello è molto bella fotografia c'è una rama su un milo prodotto da soli c'è tende come che qualcuno mi nelza da questo è la DPS uno traballo che è San Regioni o questa Fondazione di Sardegna che all'incunistituzioni era del pifai questo traballo cioè di pubblicaia di fondo intorno alla Sardegna in noi c'è questa musica di Alberto Maria di Peppino Bande Maria Luisa Congio Gianluca Dessi Gianluca Dessi Daniele di Buonaventura con su Bando Neon cosa sua Marcello Peghin Riccardo Lai Gavino Murgia Andrea Lubino di Aderuso ma musicista sa di un portumanno Mariano Viras poi che ne cesti Pierpaolo Vacca organettista sperimentatori Pizzini straordinario Pizzini straordinario Pizzini straordinario Pizzini straordinario Paolo Zudd Pizzini straordinario Pizzini straordinario Pizzini straordinario e poi devo recitare questa poesia da nessuno e poi a un certo punto ma se io questa poesia si chiede a recitare per non narrare in mezza questa gente però non lascio nulla e io oramai so manna so ezza e naro tanto naro e io chiedo lasciare una tratta come te narre un'ormina adesso che ha povato questa passione che ha papito tutta la vita ed è proprio che ha povato questo è un omaggio a me e tutto infatti a boche grara questo è un omaggio a me e tutto a sabo che è mia e che era un ripuro sicuramente so crara dell'umine e dell'atto quella è una boche grara ah certo che tu dici se crara si definisce una cosa non domandano a noi domandano a direttamente senza problema questa è una delle cose più belle è bella e fea eh no è bella è bella è bella questa è la natura mia è toccata però tu hai recitato è vero in questo luoghi tedesco andendo a donare il suo sangue in tutto il canto ma in teatro umano di Vago e tutto tu hai fatto una cosa in Porto ma non era in Milano in suo teatro d'Alverna dai Vago è stato contami di questa serata e il suo circolo di Milano che ha cominciato a fare un premio di poesia poi dopo la nuova edizione di questo premio si è fermato e proseguendo si è fermato a un certo punto hanno pensato di ottenere a Biu questo premio e ogni anno l'hanno tornato a fare sicuramente io già in giuria tanto se non come e poi vi ho recitato ora pure di questo premio o che hanno fatto una cosa in postante e il suo comune di Milano gli ha dato il teatro d'Alverna che è sul teatro di Milano e poi di Siccala di Milano e pensavo che essendo un teatro di mille e cinquecento persone è bintana è difficile alluvienare invece va a mille e cinquecento persone ma non intame saldo milanesi per te Pierangela Abis vecchidesa intelligente femmina intelligente è questa presidente del suo circolo di sologionista di Siccala e tanto ci ha amato tutto sologionista questa manifestazione e sono ben nido e non ti ha reazione che ha più per tecità di tra ordinaria perché man scritto questa litera in messanger in facebook veramente bella sta bella questa cosa spruitella lisetta gradata metà 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 sani ma adesso saldini hanno nato che vivi bella bella dunque tu hai fatto tutte cose che ha giocato più toccare del suo mondo delle arti del suo teatro tutto tanto cinema pure non scelte radio televisioni ma cinema ho fatto uno cortometraggio metà tempo come cabin chi dovina sul globo d'oro Deucisia con un 2011 mi vale tarditti in Araiada su regista uno continentale poi con l'accademia dei Tattari ho fatto dai bago un altro cortometraggio l'ultima vacanza l'ultima vacanza e poi un atto era ancora che stavate con un pedio con le binti luci spente ecco luci spente però come tenare fissare l'attenzione su alzheimer questa malattia fea naramos e gueviosa protagonista e quindi il studente dell'accademia dei Tattari bravo sabbero questo pizzino è stata una bella esperienza proprio tu hai tento un modo di dibogare a pillus anima e tutto dei poetas e dei mera poetas con sarti cosa tua di recitare tutto canto e ascoltate conoscisi di adesso un montone di poesia e di poetas ma c'è nessuno che ti ti di ader ogni borsa un pregio umano ad interpretare ad recitare qual è il poetas di tutto tempo passato che ti donna una forza e un'emozione particolare su poetas che magari devi usare in questo momento è saldo è Antonino Muraena Antonino Muraena autore di io noi pot ero che si stata una cosa tornare questa poesia che mi ha fatto conoscere più che ha giuttato tutto e si storia di questo ma sa jeddo dell'ula che morì incorrato dai suoi però sul riferimento su un literario sono importante dell'orca e quindi Ignazio Sanchez Mejias Gasi e poi è tutta Saldinia ma si pagna e questa letteratura ma con questa letteratura minore una bella poesia e questo è un autore secondo me importante me da nessuno che è saldo poi poi Vincenzo Pisano poi Cristina Serra non poto narrare chi mi da una e via bina me da dei poeta che mi aggrada poi Giovanni Viore è un poeta straordinario secondo me tu hai scritto una cosa testo su teatro una rappresentazione a Pizzagrazia dell'Eda è giusto però a prosocchento Gimban Tanno mi pare chi di Gracia dell'Eda Sisre ha fatto un concorso ed ho piccritto un'opera diatrale un monologo di su Gracia dell'Eda praticamente ha contato la storia della vita di Gracia da quando ha cominciato a creare e viene su Nobel mi sovrimata non la polassa da morrere purtè il scritto raccomenta Gracia dell'Eda non morire mai manchi in avvenzione diatrale e questa persona manna sa tu hai fatto anche cosa ha pizze su canoni cospano guru puru su non nekipano ha più scritto un'altra opera emmo eppure una più scritta una dai vago su marianna bussalai una femmina de orani con creo che sera da quinta elementare ma una sardista straordinaria amica delusso intelligente e non potete studiare per te ad smor bo de pot malattia de caia gramsci e leopardi un pezzia de de gobba e quindi non potete studiare ma avete una femmina abita meta e mi sta guardando questa figura e come ho detto proprio come è questa trasmissione tua di su resti non pensare a sei femmina a creare cosa de femmina è però sei femmina ma grazie a me la idea di una femmina che è stata una delle primi sindacate d'italia ma non cosa di Borrutta Ninetta Bartoli cosa di Orone Margherita Sanna mi aggrada come questa idea di fare qualche cosa sopra Margherita Sanna una delle primi femmina d'italia è diventare sindaca dunque siamo su tempo benidori a traballare a piccina si ma si mi basta la vita per esso man con il giovane si riunini a inghiri come tenere di questo poetry slam che è una poema particolare nascita naturalmente in america come tutte queste cose di un certo scena e sono giovane che recita una poesia ma si narra performativa se narra dei nuo su poipo questo importante canto sa per aula e poi si la va che se lezionare delle aziende che lo si costano su un pezio di gara metademocratica perché sono chi andano a costare e decidano che lezio mezzo su che non bimchini nuda bimchini una ghiburda non bene le ostate ma però intanto si si sottapone ne a su giudici delle aziende e questo giovane mi capita di vivere e di si gustare più di una osta e noi hanno chiamato a fare questa madrina e ho sempre recitato in saldo ecco però su quanto riguarda il saldo non so tanto convinto chi beppa da come te il ho certamente non vintato ma chi chi c'è uno vettata ecco su che so attende per questa poesia e su capo vatto e ho spero che c'è uno mi coppia ecco e chi lo vettata andare a dinante perché è un aste con sabore questa poesia e poi ho fatto una trasmissione con Anna Cristina Serra a pizza con curso su cacipunti in Sardegna e tutto tanto ma come ti sul mondo della poesia come ti stai stai bene stai male io ero che non è tanto bene non c'è questo interesse no si interesse bevete ed è in manno poeta e meta prende questo concorso di milano per arrivare cento baranta chimbe poesia non sono pagoso più sapreste secondo me sono poeta sono bezzo ma gente anziana sono pagoso il giovane poi con interesse umano che vai a due al giovane sono chissà di in olbia un che narra una onnis come paranume nel ramoso e su lumine non mi lamenti tesina ma vi pizzino è un atero tirese però su vi uso su un anziano ecco è una cosa che mi fa preoccupare questa poesia casi non sono solo giovane se le are e la ripito invece in culto in italiano bido giovane in meta che si accuziano a questa poesia in questa poesia di poetry slam e devono che qualcuno la fa pure in saldo come speriamo su su premio di ottieri per esempio è a bel zend che ha poesia slam bella questa cosa però lui ha fatto un attopio in liceo a attopio ai giovani a pizza progetto su poesia o un altro che ha fatto liberiamoci in città fatesi che fa ecco no sì questo su giovane so che ha rubato una maestra come si tocca una professora come si tocca e in questo caso è una professora pugliese che però è coiata con un gavo e quindi fa ed a su saldo questa professora ma ha compitato proprio per questo progetto pugliesi che ha fatto in sicola a sproni in sul liceo a sproni di Nugoro e ha compitato a fare lezioni a questo giovane su questa poesia e ho pensato che se era una declinata giovane che mai è andato invece no vieni 60 giovane 60 alunni che sono bene da ascoltare questa lezione e non si da muovito manco uno questa cosa che mi ha impantato a su solito il giovane quando vado una cosa casi mi pedine di escire in stasano ogni ora invece no nessuno ha pedito di andare in bagno questo è importante e una cosa va a questa lezione mia in italiano però ha recitato poesia in saldo in mi interessa quindi palazzeschi marinetti ma pure predo mura vincenzo pisano e gasi e questo il giovane gli si è gradata poesia tanto che mi ha scritto in messanger lettera ringraziando i miei progetti che hanno fatto tanto io ho regalato l'antologia dei supremi teotieri su presidente mi ha dato una sessantina di antologi e poi proprio questa passata abbiamo fatto maratona poetica in Sisre grazie a amico amico nostro che presidente di Sisre non si ha abito questa istituzione e abbiamo fatto questa maratona poetica e sono giovani hanno scritto poesia una b ha scritto in saldo però in hanno scritto tutti in italiano e spero che in osente di questa poesia lo possono fare pure in saldo dai comandanti poserei su stato vi dei oi e poi su tempo su cibola quando si questiona bene e compresi rimanno tu hai risciato dei bif in tattari questa bella dom ma Bulzi ti ha relato a denisi con Bulzi ti ti giurato a entrare in il mondo e sare in basare no tanto beh Bulzi che è una che una che raggiunga non tenere manco chi ma si non raggiunga però con Bulzi ha un rapporto un bago difficile che bando bago e forse si disinteressa pagua se è senso che è fatto giustamente giustamente credo che sia pure giusto caso però se tu mi nara di un senso non sono tattarese non manco prosun mancare il tattarese lo prendo tutto e lo vedo pure un bago però non sono tattarese sono buzese tattare mi ha dato me da manera di imparare su saldo mezzo dei tanti buzzi brutte in tattare ha poi confrontato su saldo me con su saldo di 63 vidra che tattare è una idda di saldina salida pimana di saldina che donare su 70 kimbe 80 broguento da tattarese o dei abitanti tattarese su dei vidra e in ora è a papi domanera di poter far dare con so cianino confrontare salimba mia con so cianino con soldi barbaricino con tutto e mezzorario su saldo me o curo caso salimba si mezzorra confrontare con su sattarese questa per aula non la poi su vocabolario me ma non attra i già ed ho l'imparo cara clara temo e poi sarai salutare i amici su radio televisione santo ti domando una cosa temo ti faccio pregi ci salutiamo a tutti con voi altri non si faccio pregi se cianino che venire con altre voci bellas non voci grana città una questa è grana farina ma si abiti con altre cose belle altre attore cantatore e impari intanto grazie questa grana farina grazie a ti che si bene da dom mia e grazie questa trasmissione tua chi si narra una poesia di femina ah questa cosa bella ti canta questa femina bella quindi devo pensare commenti che resti una poesia non si può fare che bisogna desinvicchire questa poesia è intitolata feminas ed è di vincenzo pisano o pizzente narriamo noi voi narrate vicente porsi pisano femina schimistimais beneditassiaisi tessidoras di arrezzas di amori feminas ai indolori scendiendi femina generendi umanidade feminas debietati addoloridas feminas donendividas po nascimentus feminas in pensamento abetendi citiasa femina soffrendi scidasa in capizalis deletto feminas di rispetto dignitosasa feminas bella sposasa augus de velludo feminas di aggiudinis momentus graesi feminas che andai che andai cerchendo di veri veri feminas di maneri dostau demossiai feminas di abrazai destrumpai consintitusu feminas di abarrai scidusu a notti intera cosendi feminas che brangendi mi stringesi commenti mi oleisi feminas che basaisi che mi donaisi amori e fantasiasa feminas in gelosia sferenosas feminas marigosas che latta e lua femina bianca sterrida sbinta stancasa assuermata feminas che debattas regalai sa vida feminas carabulida limpia che mitza frisca feminas terra di isca di arai e seminai feminas deconfortai candudanai sa ditta un ubi piu canda su sugo mius in cia concaesi benedittas siaesi benedittas feminas bellas dedittas amodris ilongas tostadasa feminas che non sei storratas e che non ha puscarescio feminas che io sminescio dottu sudde donai donendidotto feminas che esconnotto e conoscesi feminas che mi percorresi in doña bimperido feminas ha coruvrido scitorau feminas che accostau mi vadei driniri feminas che ne bistiri sbregungiasa feminas arrebuggiasa traitorasa feminas impostora trapassera feminas bandulera feminas caminadasa feminas desesperadasa feminas feminas di amai feminas de confortare de donai garignos feminas fadendizinhos ingionungadasa feminas invocadas feminas feminas de espanto in totus humanidade feminas pos eternidade pobisus oe poesiasa feminas che vadeis bivi feminas feminas mias feminas se estimo se hai amanti mam o zorri cando sei sposa vida o pondi morri o 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.